Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Joppa17 e oggi siamo tornati su Kirby Star Allies per un nuovissimo episodio Perfetto ragazzi, nello scorso episodio avevamo completato Celi Cerulei E avevo anche recuperato un oggetto extra in uno dei livelli segreti presenti a Dream Land Prima del Guardiano della Foresta, vi ho fatto vedere come sbloccarlo, dove si trova più che altro e a che cosa può servire Oggi direi di proseguire la nostra avventura qui sul pianeta Pop, dobbiamo completare il livello Orrore Oscuro Ok ragazzi eccoci qua Uh attenzione Perché ci sono queste piattaforme strane Ok stiamo attenti Ah ma è lava, quindi non posso toccarla Sono diventato un indiano Ah ma posso volare Ma che spettacolo E picchio anche forte Vai Kirby Ok Ruota Aia Ah ok È una ruota Con Delle lame No Nooo Lui volevo prenderlo Perché poteva darmi una mano Vabbè allora li faccio fuori Ok attenzione a non toccare Di nuovo quelle lame lì Aia Ok perfetto Qui non si va da nessuna parte Siamo sicuri? No Non si va da nessuna parte Esploro sempre bene 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 i livelli Perché non si sa mai Attenzione che sono in fin di vita Ok Ok rieccoci qua Nemici Lui Lo voglio E voglio anche l'altro Proteggimi Aspetta Voglio anche lui Questi sono da sconfiggere Perfetto Anche questo Anche questo Magari Kirby girati Oh lui No lui no Vola Kirby Lui lo voglio E questi qui? Mamma mia Meno male che avevamo l'acqua A darci una mano Alza la spada Bravo Ninja splash No voglio anche lui Perfetto Uh del cibo Livello segreto Che poi più che un livello In realtà è una zona segreta C'è una scala Ok No 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 Ah beh abbiamo potenziato la sua Katana Ninja bufera Bravissimo Bravissimo Ok E qui Dobbiamo andare su di qua Aha Opla Perfetto Ok andiamo Su qua Perfetto Torniamo di là Perfetto Mamma mia Mamma mia che musichetta Vai 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 Kirby Do sempre un'occhiata qua in giro Ok nemico sconfitto C'è lo spartano Oramai mi viene da chiamarlo lo spartano Bravi Qui si va sotto Ah guardalo lì Katana Bravissimo Stiamo scoprendo una marea di zone segrete Ma una marea di zone segrete Non mi aspettavo che ci fosse la lava Ok Un bottone Perfetto Livello extra Aperto Allora Torniamo su Devo recuperare Un potere speciale Prima c'erano due vie E ho scelto Quella sbagliata Allora Prendo Puppazzo di neve Grazie Vamonos Qui si scende Ah ok Non cambia nulla L'abbiamo congelato Ok No possiamo potenziare Soltanto la sua spada Via Come sempre Ragazzi se avete dei consigli Da darmi Scrivetemi pure un commento Qui sotto Ci prendiamo le stelline Senza magari morire C'è spazzolino Che poi in realtà Non si chiamerebbe Spazzolino Condividiamo tutto Il cibo Quello è da prendere Adesso Un cannone Mazza che strike Aspettate No A meno che non ci sia qualcosa qua No Allora Torniamo dentro al cannone Di qua Ah Guardate C'è una scala Lo sapevo che c'era qualcosa Allora Qui la roba gira Abbastanza velocemente Abbiamo trovato Il super tassello Super tassello Eccolo qua Mi manca una stellina Sì Beh Possiamo lasciarle lì La cosa importante Era trovare Il super tassello Perfetto Livello completato Ragazzi Ce l'abbiamo fatta Allora Ci riproviamo Eh Ah Caspita Secondo piano Prima o poi Ce la farò Ad arrivare al primo Ok Ci hanno ricaricato La vita Mettiamo I pezzi Del puzzle Al loro posto Perfetto Ok ragazzi Rieccoci qua Allora Abbiamo sbloccato Un livello extra Che si chiama Neve notte E questo livello Che si chiama Interno inviolabile Allora Andiamo ad affrontare Questo qua Neve notte Ok Eccoci qua Oh Subito verso l'alto Ah ah Due nemici Guardate Mi prendo la frusta No Ah Devo prima buttare via L'abilità Vabbè Pazienza Ok Andiamo a recuperare Le tre stelline No Attenzione a non Centrare quelli Dobbiamo rifare Il giro Allora Dobbiamo rifare Il giro Perché ho bisogno Del Ho bisogno Del fuoco Ok ragazzi Rieccoci qua Perfetto Ok Ho recuperato L'abilità fuoco Ok Ho sbloccato Anche l'altro Interruttore Questo me lo prendo E Possiamo procedere Allora Qui stiamo Attenti Attenzione al Cowboy Perfetto Eliminato Vai Kirby Sbrigati Mamma mia L'abbiamo Disintegrato Attenzione Che c'è Sgocciolo In fin di vita Ok Sconfitti Aia Perfetto Procediamo Velocemente Ok Speriamo Di non Esserci Dimenticati Di nulla Eh no Sgocciolo Ci saluta Ok Vieni con noi Eccolo qua Ah no Lui dobbiamo Per forza Sconfiggerlo Allora Aspettate Torniamo Un attimo Giù Perché qui C'è roba Interessante Anche una Zona Extra Ok Ok Rieccoci qua Se poi Mi dimentico Qualcosa Avvisatemi Con un Messaggio Nei commenti Ah Ah Ok Ok Ma no In realtà Non volevo Far Così Vabbè Facciamo così Alza Perfetto Gli ho potenziato La frusta Come mi avete scritto Perché posso potenziare Anch'io le armi dei miei alleati Bravo Colpisci anche quello, grazie Ah, non lo colpisci? Vabbè Ci prendiamo la chiave Apriamo qua Ci prendiamo il super tassello Quello non si può rompere Ah Vabbè Allora torniamo di lava Ma se invece provo a romperlo io? Scusate, è solo per curiosità No Purtroppo non posso fare niente Vabbè, pazienza Ok, risaliamo su Attenzione alla lava, eh Attenzione alla lava Ti sostituisco al western Potenziami la frusta Grazie Frustabufera Avrei preferito Con il fuoco, ma va bene così Ok, siamo di nuovo in una nuova zona Che male Si sale E si risale C'è Kirby che sta svolazzando I miei alleati invece stanno Nooo Dimentica tu Un tassello Eh, non si può più recuperare Niente Devo rifare il livello poi Allora Ahà Si scende C'è C'è spazzolino E samurai qua Perfetto Abbattuti C'è tal pagallo che È in fin di vita E qui dobbiamo affrontare Dei nemici No, lui non lo posso Configgere Uh C'è mister pennello qua Ok Sconfitti entrambi Cuoricino a uno Ciao Bio spark E cuoricino all'altro Ciao tal pagallo Perfetto Due nuovi alleati Li potranno tornare Molto Molto utili Abbiamo recuperato Un altro tassello Ne ho dimenticato Soltanto uno Allora Ok Perfetto ragazzi Livello completato Dai Questa sarà La volta buona No Però Nel frattempo Siamo già migliorati Dalla terza Siamo saliti Alla seconda posizione Dai che ce la faccio Prima o poi ce la faccio Mi avete detto Che diventa viola Quando è perfetto Però Bisogna avere Un buon colpo d'occhio Va bene ragazzi Rieccoci Tornati Sul pianeta pop Sinceramente Non so Quanto sarà Lungo questo video Però direi che possiamo Terminare questo episodio Di Kirby Star Allies Qua Come sempre ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Nel prossimo episodio Dovremo andare ad affrontare Il livello interno Inviolabile Che probabilmente Conterrà anche Un mini boss Come sempre ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E ci vediamo In un prossimo episodio Sempre qui Su Kirby Star Allies Alla prossima ragazzi Iscrivetevi al canale